Arriva il bonus psicologo da 600 euro per imborsare chi si rivolge allo specialista a causa delle restrizioni e degli effetti della pandemia. Uno strumento pensato per fronteggiare le conseguenze di due anni di emergenza dovute al Covid-19 e di restrizioni sulle persone e per ristorare le spese affrontate per le sedute di psicanalisi e terapie. La somma prevista servirà per imborsare al massimo 12 sedute da 50 euro ciascuna. Al bonus potranno accedere i cittadini che hanno un ISEE inferiore a 50 mila euro. Applaudi a questa misura contenuta nel decreto mille proroghe la psicoterapeuta Marinella Sclocco. Quanto è importante una misura come questa e soprattutto quali ripercussioni potrà avere sul territorio abruzzese? Una misura fondamentale perché per la prima volta, e quindi una misura rivoluzionaria in questo senso, perché per la prima volta si dà accesso anche ai servizi privati con fondi pubblici, ai servizi che si occupano di salute mentale alla popolazione. Quindi è fondamentale perché in questo momento chi lavora sul territorio sa che cosa sta succedendo e quanto forte è la richiesta di benessere da parte delle nostre famiglie, da parte degli adolescenti che sono il sintomo di difficoltà, di ansia, di fobie, ma che sono il sintomo anche della difficoltà che gli adulti, che i loro genitori stanno vivendo rispetto al loro lavoro, alla loro idea di futuro. Certamente il governo dovrà fare molto di più perché purtroppo oggi c'è una prima difficoltà che è nel servizio pubblico. Il servizio pubblico non riesce a rispondere a tutte le richieste di benessere e quindi chi non ce la fa economicamente è lasciato solo. E quindi ecco perché il bonus psicologico può dare finalmente una risposta. Quando si può dire che scatta il campanello d'allarme e una persona deve capire che deve farsi seguire e aiutare? Il malessere. Ci sono tantissimi campanelli d'allarme che non vanno sottovalutati. L'insonnia, il malessere, gli attacchi d'ansia, passerà. Eh beh, non è detto che passerà. Può peggiorare. L'insoddisfazione, la tristezza, la tristezza che può diventare depressione ma attenti alla tristezza. Sono tutti piccoli campanelli d'allarme che non vanno sottovalutati.